Circa 8 milioni di euro di fondi regionali sono questi soldi a disposizione del Parco Depurativo di Pescara che dovrebbero mitigare i problemi legati al sovraccarico degli impianti di trattamento delle acque del capoluogo che tanti problemi hanno creato alla bagnazione del mare negli anni passati. Questi lavori consentiranno al depuratore di resistere ad ogni fabbisogno e come se si potesse doppiare questa città circa il fabbisogno di depurazione e con questi lavori noi la mettiamo in capacità perfetta di funzionamento. Il 25 maggio del 2019 saranno conclusi i lavori che sono stati consegnati oggi per portare l'impianto alla portata di 210 mila abitanti anche se i primi risultati dovrebbero essere tangibili già a partire dal 30 giugno quando si concluderà la prima fase di pretrattamento delle acque. Non solo migliorerà comunque la capacità ma anche la qualità del funzionamento del depuratore. Per esempio è previsto un sistema di pretrattamento che migliorerà anche in caso di pioggia e quindi anche nel caso in cui le quantità di acqua che arriveranno al depuratore saranno molto al di sopra delle capacità di smaltimento del depuratore di trattarle adeguatamente. Sono state già ordinate le apparecchiature che riguarda il pretrattamento per poi completarlo, come diceva il Presidente, per giugno dell'anno prossimo. 2018, giugno, già ci saranno i primi risultati perché attiveremo comunque come impresa l'impianto di pretrattamento, come si diceva prima.